ragazzi non voglio sorprese dobbiamo essere pronti a scendere in campo dobbiamo concentrarci sulla resistenza e sui cambi e non voglio assolutamente frizione fra di voi ok voi quattro meno convergenza a destra e se tre partono dal centro campo gli altri tre devono decelerare ragazzi questa questa è la nostra formazione vincente tutto chiaro bene siamo pronti giochiamo l'anticipo con il gruppo autoscala la concessionaria dei campioni